C'è Zaleschi, anzi no però, le lascia il pallone Pellegrini, si intrecciano le corse dei due, bene il pallone dentro, cross, tiro di Abram, poi è... Miki! Miki sulla prima azione da Roma, caro Andrea, la Roma è uscita dalla sua metà al campo con una qualità eccelsa, lo dicevamo, duettano che è una meraviglia, i due romani, due figli di Roma sulla fascia sinistra, Pellegrini e Zaleschi, palla dentro, la palla rimane lì, sporca, ma comunque vagante ed è cattivo al punto giusto, Miki d'aria per metterla dentro, bene così, vantaggio della Roma.